Sono stati tre anni intensi, abbiamo lavorato molto, mi piace pensare di aver essere riuscito come, non personalmente, ma come reparto, come quando pronunciai di Avellino, di aver dato delle risposte ai cittadini, soprattutto nei momenti più critici e difficili quando c'era la richiesta di giustizia e di anche retribuzione nei confronti di che commesso anche i carabinieri, abbiamo avuto, sapete, anche dei fatti di sangue gravi e l'arma dei carabinieri della provincia di Avellino si può dare una risposta tempestiva e netta a questi fatti. Mi rimarranno gli occhi dei ragazzi che ho incontrato nelle varie occasioni in cui sono stato nelle scuole e io sono convinto che quella sia l'Irpinia vera, pulita, profonda, forgiata da una plurimillenaria storia di confronto, di essere una terra di confine e mi piace pensare di aver lavorato soprattutto per loro e per il loro futuro. Certamente abbiamo avuto gravi fatti di sangue, se possiamo parlare di fatti gravi a cui abbiamo risposto tempestivamente ma anche con un'attività molto complessa, per esempio l'omicidio a Zeppetelli a Cervinara, un dubbio cedentrato omicidio di pochi giorni prima a San Martino e Valle Caudina, ecco lì l'indagine è stata rapidissima, avete visto, abbiamo immediatamente identificato gli autori responsabili di questi gravi fatti di sangue ma ciò non vuol dire che l'attività sia stata semplice. Come sapete ci fu un po' i giorni anche il comitato provinciale in cui partecipò il procuratore, adesso il procuratore nazionale di mafia mila all'epoca, il procuratore distrettuale e lui mi dice una cosa che io mi sento di sottolineare, quello che ha premiato in quel caso è stata la squadra. La squadra è la capacità di cooperare in tempi rapidissimi tra tre diversi comandi provinciali, quattro diverse procurure della Repubblica e questa è stata la chiave del successo così tempestivo. Dopodiché possiamo parlare di altre attività delle indagini che hanno riguardato il reparto, iniziate dall'attività del mio processore che abbiamo continuato noi, sono tuttora in corso di processi, li conoscete, il partenio al processo d'aste ok, che credetemi coinvolgo nelle parti non solo nella fase investigativa ma anche nella fase di supporto alla parte processuale. Anche mi piace pensare di stare facendo un buon lavoro e mi auguro i risultati arriveranno a presto. Lì consentitemi la capacità di risposta dei militari a tutti i livelli, non parlo del comandante provinciale né del comandante di compagnia né del comandante di parto operativo, ma di tutti i militari coinvolti questa è stata una delle mie più grandi gratificazioni, cioè quello che abbiamo seminato, che abbiamo parlato con cui siamo addestrati, con cui abbiamo riflettuto per questi tre anni, ha avuto un esito nella capacità di tutti gli attori, nel caso specifico, di reagire tempestivamente e per bene, come previsto e con efficacia. Questo secondo me è la chiave, io sono molto soddisfatto di come siano andate le cose, ma sono risultati che non si conseguono dall'oggi al domani, ma si seminano attività di studio, di ricerca, se vi ricordate anche nel discorso della festa dell'arma noi studiamo, cerchiamo di imparare dagli errori e di andare avanti. Questo fatto che sarebbe stato meglio non si verificasse naturalmente, però mi ha dato un po' una certa tranquillità sulla capacità di risposta dei miei reparti.